Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi come state vedendo qui da questo video molto breve ragazzi Vi annuncio un cambiamento davvero molto importante per me e anche per voi almeno lo spero Perché questo ragazzi? Come vedete in descrizione davvero molto importante Vi lascio il mio canale nuovo, il mio nuovo canale ragazzi Non è un secondo canale ma sarà il canale principale Questo canale ragazzi lo torrò attivo solo per qualche live serale così Ma principalmente i gameplay e tutto il resto lo concentriamo sul secondo canale Sto pensando inoltre di cominciare a fare i famosi gameplay con la webcam Quindi fatemi sapere cosa ne pensate Mi raccomando andate ad iscrivervi, lasciate un bel like, commentate, condividete Ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a quel canale e accendete la campanellina Perché è la cosa davvero più importante Perché si chiede ragazzi cosa farò sul nuovo canale? Beh potranno essere finalmente implementati i vlog, i gameplay appunto con la webcam Soprattutto portando questo format Ossia ragazzi verso l'una e mezza video su Minecraft o video importanti Mentre la sera alle 7 video su FIFA, Battleground, Arma 3, Payday 2 e vari giochi FIFA 17 eccetera eccetera Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al nuovo canale Lasciate un bel like, non so quando uscirà il primo video ma credo esca domani Comunque like, commento, condividete, iscrivetevi al canale e ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi